Ciao amici, benvenuti, bentornati, ben ritrovati sul mio canale, io sono Salvo e questo è il garage dell'elettricità. Oggi vi do risposta a tutti coloro che in questi giorni e nelle settimane precedenti mi hanno chiesto informazioni sul montaggio di questo battery monitor. Ho notato che molti di voi hanno problemi nella lettura della corrente in ingresso e in uscita. Adesso vi spiego il perché. Ma come sempre prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, lasciatemi un like se questo video risposta vi sarà piaciuto e come sempre fatemi una domanda e io vi farò un video risposta. Molti di voi pensano che il problema sia legato a questo affare qui che non si riesce a programmare o che sia rotto. Allora vi tranquillizzo, non è lui il problema, a meno che non sia rotto di fabbrica, ma al 99,9% dei casi non è lui. Il problema sta su questo oggetto qui, sullo shunt. Ho detto anche fusibile, questo è un fusibilone da 500 ampere perché io ho preso la versione più grossa che c'era e comunque abbondare con gli ampere su sta roba non è mai un problema. Allora, questo oggetto qui ha un verso di montaggio e una posizione ben precisa sul cablaggio delle batterie. Non ovunque, come a volte ho visto, mi avete mandato delle foto per sapere se andava bene, non andava bene il collegamento. Lui ha una posizione ben precisa e ha un punto ben preciso di collegamento. Allora, il punto che va alle batterie è il B-, il punto che va agli assorbimenti è il P. Allora, ho preso una batteria, ad esempio, non mi metto a fare i collegamenti, ma giusto per farvi capire, se io ho una sola batteria, ho più batterie messe in serie e parallelo, mi andrò a collegare il fusibile direttamente al negativo di prelievo della batteria. Quindi questo B-, lo colleghiamo sul negativo della batteria e dal P-, andiamo verso l'invertero, comunque verso tutti i negativi del nostro impianto 12-24V. Ok? Quindi questa è la posizione, il collegamento giusto. Se ho una serie di batterie, quindi negativo al positivo dell'altra batteria, non va interposto qui, perché qui non farà nessuna lettura. Andrà interposto sempre solo al negativo che poi prendiamo e andiamo verso inverter o utilizzo. Se siete curiosi di vedere l'installazione completa di questo battery monitor che tornerò ad utilizzare, quindi monterò di nuovo sul mio impianto fotovoltaico, attivate la campanellina e seguitemi, che a breve mi arrivano altre due batterie che vado ad installare e le vorrò monitorare con questo battery monitor. Quindi io vi ringrazio per avermi seguito, mi raccomando lasciatemi un like se questa spiegazione vi è piaciuta, e noi ci vediamo prossimamente.